Buongiorno a tutti amici di Padre Pio TV, buon giovedì santo e bentrovati in collegamento con noi. Inizia il triduo pasquale, siamo nella settimana santa. Quest'anno un triduo e una settimana santa particolari, in quanto davvero segnati da questa pandemia che stiamo vivendo a livello mondiale. Noi siamo collegati via Skype, lo faremo oggi ma anche domani che è venerdì santo e sabato, con dei frati cappuccini che ci aiuteranno a capire il significato di queste giornate che stiamo vivendo, con dei messaggi anche di conforto e di speranza. Cominciamo con Fra Orazio Renzetti nel convento di Leonessa in provincia di Rieti. Pace bene Fra Orazio e grazie per essere con noi. Pace bene a voi tutti cari, grazie, grazie a voi, grazie. Grazie a te per la tua presenza. Allora, questo giovedì santo, una giornata importante per la Chiesa e per i cristiani, che si celebra nelle Chiese con diversi riti, uno tra tutti la messa in cena domini con la lavanda dei piedi. Beh, quest'anno stiamo vivendo una settimana santo, un triduo pasquale particolare. Ecco, Fra Orazio è davvero segnato da questa emergenza sanitaria, in questo tempo ferito da questo flagello che è il coronavirus. Regalaci una riflessione legato a questo, a questa giornata del giovedì santo. La lettura che tu hai fatto circa il momento che viviamo, quello della pandemia, è già una spiegazione del tempo che stiamo vivendo. Soprattutto credo che ciascuno di noi è colpito dalla gravità dell'evento, soprattutto dai lutti, così tanti, così numerosi, dall'abbandono di queste persone che non hanno avuto vicino a sé i propri cari nel momento più difficile. E questo è quello che segna un po' il tempo, ma il cuore di ciascuno di noi. Noi siamo davvero addolorati per tutto quanto questo. Hanno lasciato la vita non soltanto persone malate, ma anche persone che erano sul campo, medici, infermieri, sacerdoti, religiosi, religiosi, missionari. Insomma, non ha risparmiato nessuno, ma non si è risparmiato nessuno di queste persone che sono morte. Davvero hanno dato tutta la propria vita. E credo che questa lettura spirituale, cioè dare la vita per gli altri, è ciò che apre il Tito Pasquale. Gesù ci ha mostrato e ci mostra in questi tre giorni come lui è donatore della propria vita. Inizia proprio da oggi il fatto che Gesù nell'ultima cena si dona come pane, si dona come vino di salvezza, si dona come servo, insegnerà agli apostoli a servire. E quindi questo tempo di grande sofferenza per l'umanità intera è collocato all'interno del Tito Pasquale. Il Signore si è accollato le fatiche dell'umanità e si è avvicinato come Cireneo a ciascuno di noi. Ecco, questa lettura spirituale è ciò che dà un senso a quello che si fa perché è ripieno di religiosità. Cioè Dio è presente oggi in ciascuno degli uomini, delle donne di buona volontà, in ciascuno che è ferito nel proprio corpo, nel proprio spirito, in coloro che hanno perso gli affetti e che sono feriti senza aver dato un bacio, una carezza, una stretta di mano, un grazie o un perdono a quelle persone che ci hanno lasciato. Ecco, il Tito Pasquale inizia con questo segno. Vogliamo raccoglierci intorno a questa cena pasquale, questa ultima cena insieme agli apostoli, cercando di fare solo questo, come Giovanni ha fatto, poggiare il capo sul petto del Signore, per sentirne gli stessi sentimenti dell'umanità, così come lui ci insegna ad avere gli stessi sentimenti suoi, quelli dell'amore. Questa mattina, mi correggo, ieri Papa Francesco nell'udienza generale ha utilizzato un paio di parole che in queste settimane sono comparse sui balconi, alle finestre, accompagnate anche dall'arcobaleno, disegnate dai bambini. Andrà tutto bene. Il Papa ha detto nell'udienza generale di ieri, la Pasqua ci dice che Dio può volgere tutto in bene, che con lui possiamo davvero confidare che tutto andrà bene. Ecco perché il mattino di Pasqua ci viene detto non abbiate paura. Quindi in questo senso le parole di Papa Francesco ci devono confortare, ma soprattutto ci devono responsabilizzare a fare anche noi la nostra parte, fra Orazio, da cristiani, da cattolici, quindi a crederci, a pregare di più, a celebrare anche una sorta di liturgia domestica nelle nostre famiglie, con piccoli gesti di vicinanza alle persone che ci sono vicine. Io partirei da quella veglia del venerdì sera, della settimana quell'altra, dieci giorni fa, quando il Papa in piazza San Pietro lo abbiamo visto davvero portare sulle proprie spalle quello che porta l'umanità intera, salendo quelle scale verso la liturgia della parola. ci ha fatto toccare con mano quanto il Papa ami l'umanità e soprattutto ami questa Chiesa, ami le sofferenze degli uomini. Non è mai stato così partecipe, forse, in questo momento di grande sofferenza, di solitudine, rispetto alle volte che era immerso tra la folla. Ci ha fatto capire che ciascuno di noi comunque in questo tempo di solitudine può salire quelle scale con lui perché come padre non ci abbandona, ogni tanto ci dà, ogni mattina, ogni giorno ci dà una parola che sa leggere bene la storia, che sa cogliere bene le difficoltà, ora i poveri, ora gli ammalati, ora la protezione civile, ora i medici, sa cogliere bene questo. Per noi davvero sono pillole di grazia ogni giorno che possiamo ascoltare. E poi l'immagine forte, significativa di quel crocifisso, dietro le sue spalle, quando anche il Papa ha adorato, ha benedetto, ha pregato davanti alla Madonna col bambino e al Cristo crocifisso è morto, prima di concludere con l'adorazione eucaristica. Ebbene, a me ha colpito, come penso ciascuno di voi, come da quel crocifisso scendevano dal costato i rivoli di sangue, ma dall'altra parte i rivoli d'acqua. Ebbene, nella liturgia dell'ultima cena, nella liturgia eucaristica che facciamo e celebriamo ogni giorno insieme ai nostri fedeli, in spirito e verità, perché anche quando celebriamo attraverso i social che sono una benedizione in questo tempo, tutte le televisioni, la radio, internet, qualsiasi cosa, ecco, quell'acqua rappresenta l'umanità, il sangue di Cristo che esce dal suo costato, l'acqua dell'umanità che scende sul Cristo, in parallelo, ma tutti e due in segno di grande comunione, la sofferenza di Gesù e la sofferenza dell'umanità. E in questo triduo raccogliamo proprio la sofferenza dell'umanità e lo portiamo a Lui. Questa è la fede, cioè fidarci che quel Gesù che è morto, quel pontefice che saliva stanco, Papa Francesco, e che poi ci ha dato quell'indulgenza plenaria, che ci ha consegnato quella abiezione eucaristica, quell'emozione e quel pianto che ci ha fatto scaturire dal cuore, oltre la pioggia, ebbene, quei segni sono la forza della speranza, altrimenti davvero saremmo persi, no? Non è che ci dobbiamo aggrappare al Papa o a Cristo, dobbiamo entrare dentro la spiritualità di Papa Francesco, un vero dono per questo tempo, e dentro la forza del Cristo crocifisso, che è venuto nel mondo per salvare tutti, in particolar modo quelli che oggi fanno fatica a credere, perché comunque il dolore mette davanti dei dubbi o delle difficoltà. Noi preghiamo per chi ha questi dubbi. Ecco, Fra Orazio, sei nel convento di Leonessa, quindi immagino che le giornate di voi frati siano scandite, forse in modo diverso rispetto alla quotidianità della ferialità e della festività, diciamo così, in tempi di pace. Come è cambiata la vostra quotidianità? Come è cambiata la tua quotidianità e come riesci a farti vicino, a farti prossimo alle persone che particolarmente in questo momento hanno bisogno di vicinanza, seppur virtuale, ideale, telefonica, hanno bisogno di una parola di conforto, di un abbraccio virtuale? Sì, è cambiata, certamente, sia per me che per la mia fraternità. È chiaro che ci siamo un attimino rivisti in quello che sta accadendo, ci sono delle norme da osservare, come giustamente facciamo noi, ma fanno tutti gli italiani, lo speriamo. La nostra giornata è comunque scandita dalla preghiera, che inizia la nostra giornata con le lodi, l'ufficio del Ture, una piccola riflessione. Poi celebriamo insieme la Santa Messa, da qualche tempo abbiamo aperto una pagina Facebook per le persone, per essere vicino ai nostri cari, familiari, amici, i nostri parrocchiani qui di Leonessa. Poi alle 21 ci colleghiamo spiritualmente con il nostro Vescovo, lui in cattedrale davanti alla Madonna del Popolo, della cattedrale di Rieti e in ogni casa si celebra il Santo Rosario alle 21, accendendo un piccolo cero sulla finestra. Quindi la preghiera è, diciamo così, rimasta la struttura portante della nostra giornata. Poi ci siamo dedicati un po' alla casa e quando si è impegnato tanto in pastorale a volte qualche cosa ti sfugge. Abbiamo dei bellissimi rapporti tramite i social per poter avvicinare le persone. Io personalmente ho cercato di mantenere alcune cose che so fa piacere alle persone, ho chiesto autorizzazione anche a chi di dovere per poterlo fare e ho ricevuto il dono dalla Sabina delle palme. Quindi Domenica delle palme ho benedetto le palme, le sto portando ogni giorno ad ogni famiglia qui delle nostre parrocchie, possibilmente con le precauzioni sempre, con i guanti, le mascherine e poi portare la comunione a chi lo desidera. Ecco, fino al giorno di Pasqua cercherò di fare questo. Mi sembra un segno davvero di attesa, sia da parte mia di vedere le persone che ho sempre visto e sia anche da parte delle persone. Non è soltanto una tradizione della palma, ma è il contenuto di quello che avviene. Cioè questo di iniziare questo trito pasquale con questo segno che abbiamo ricevuto domenica scorsa, questo Gesù che entra, trionfante, acclamato dagli abitanti di Giosalemme con le palme. Ecco, allora la gente lo conserva con molta attenzione, preparandosi al meglio però al trito pasquale. Quello che conta è il cuore, è quello che inizia oggi fino al giorno di Pasqua, alla notte di Pasqua. Comunque nel nostro piccolo, solennemente, vogliamo celebrare. Abbiamo deciso di mantenere tre cose fondamentali a cui i nostri parrocchiani e tutta leonesi, leonesi, ma anche gli oriundi di Leonesia, che sono a Roma, Terni, Rieti, in altre parti che salutiamo davvero di tutto cuore. Abbiamo mantenuto una diretta Facebook venerdì domani pomeriggio alle ore 16, presso la chiesa di San Francesco davanti al crocifisso, che annualmente in questo giorno portiamo il venerdì santo, portiamo in processione, proprio per far sentire il legame, quindi l'acerbazione del passo e tutto il resto lo faremo davanti al crocifisso alle 16 e poi davanti alla Madonna della Pietà, il sabato santo alle 15, il santo rosario. E la mattina di Pasqua, io e un altro confraterno, padre Carmin, ci regheremo per tutta la città, sono tre campanelle custodite da anni, da secoli, diremmo così, perché annunciano la Pasqua. Dalle 7 e le 8 si fa una processione quasi di corsa perché felici si annuncia la mattina di Pasqua che Cristo è risorto e quindi faremo questo percorso per tutto il paese dicendo che Gesù è risorto. Ecco, questo è un modo davvero per far sentire ciò che la chiesa ha sempre programmato, sì il venerdì santo, sì il sabato santo, ma soprattutto sia la Pasqua, Cristo è risorto. Fra Orazio, ogni anno a Pasqua e a Natale giungono nelle caselle di posta elettronica dei tuoi amici, ma delle persone che ti hanno contattato in tutti questi anni degli auguri speciali e delle riflessioni. So che ci vuoi fare un'anticipazione, un messaggio in vista della Santa Pasqua. Sì, ecco, innanzitutto grazie anche a voi, perché tante cose le ho fatte anche grazie ai vostri inviti così cordiali e così nel tempo anche così puntuali, quindi grazie di cuore. Ho anche avuto modo in questi giorni di riprendere due o tre sogni che avevo interrotti, quindi fra cui terminare un libro dedicato alla Madonna, quindi ci tenevo tanto, l'ho ripreso in mano, spero di poterlo finire anche in questo tempo. Maria, ho scelto 12 pensieri della Madonna che sono così dislocati in tutto l'arco dell'anno, no? Maria è una tenerezza materna. E poi, ecco, ogni anno faccio gli auguri ai miei parrocchiani e ai miei amici con una riflessione. E questa, per questa Pasqua la vorrei offrire, spero sia gradita, a tutti coloro che ascoltano Tele Radio Padre Pio, insomma. È un auguro che all'inizio sembra talmente forte, ma la descrizione di ciò che è avvenuto è quella settimana santa, a partire dalla Domenica delle Palme fino alla notte di Pasqua, alla mattina di Pasqua. E questo scritto si chiama così, Il volo dell'urlo nel soffio del cielo. Le urla di Gerusalemme, che festante acclama, e compie i gesti di ossequio con il cuore lontano. Le urla della folla risuonano le stanze e le pietre del palazzo, con fermezza, le rifiutano. Le urla dei soldati riecheggiano Beffarde ed anche il selciato della piazza impavido le cancella. Le urla dei sacerdoti alte si elevano e persino le pietre del Tempio sdegnate e le respingono. Le urla dell'orto si diramano nel buio ed anche gli ulivi li allontanano da sé. Le urla di condanna impietriscono gli apostoli e il loro silenzio è la peggiore accusa. Le urla di tutti si inerpicano sul Calvario e la pesante croce ne assorbe il dolore. Le urla di morte alte si innalzano al cielo e le pesanti lacrime verso la terra declinano. Le urla del creato invadono il giardino finché la pietra rotolando tutto zittisce. Le urla del mondo diventano preghiera ed al cenacolo sode un soffio che rigenera. l'augurio più bello è che quel soffio finale, quella pietra rotolata ci appartenga davvero nel cuore. Vedete siamo rimasti molto isolati l'uno dall'altro, abbiamo riscoperto quanto sia importante avvicinare le persone, ne sentiamo davvero il bisogno. Però la Chiesa come corpo mistico è sempre unita, il corpo è separato, ma siamo sempre uniti l'uno nell'altro proprio davanti a quella pietra nella certezza che Cristo è risorto dai morti e ci darà la gioia di risuscitare anche da questa terribile pandemia che ha colpito l'umanità. Grazie, buona Pasqua a tutti voi. Grazie di cuore Fra Orazio, grazie per le parole che ci hai regalato in questo Giovedì Santo. Permettimi di dire, vediamo alle tue spalle la foto dei tuoi genitori. Ecco, un pensiero anche davvero, questi inviti che ci sono stati fatti in questi giorni, di rimanere a casa, di farlo per le persone care, quindi di farlo per i nostri genitori, per chi ha ancora la fortuna di averli, chi ha i nonni, gli zii, le zie, quindi ancora un po' di sforzo ecco, per poi, come dire, poter davvero gioire tutti quanti insieme. Ti ringraziamo di cuore, davvero speriamo di poterti avere di persona qui nei nostri studi prossimamente. Grazie, anche a te, grazie Fra Orazio.